Re Canatese e Trastevere ci hanno dato dentro di brutti in una partita che non ha vissuto un attimo di pausa. L'hanno spuntata meritatamente i giallorossi che hanno fatturato almeno una dozzina di nitide palle gol ed hanno avuto il solo torto di concretizzarne una minima parte. Onore delle armi ai romani che hanno dimostrato come la loro classifica non sia casuale. Sono stati però surclassati dalla grande verve dei padroni di casa, da uno sbaffo ispiratissimo che quando è in giornata può fare la differenza in questa categoria ed ha una retroguardia che nel finale è stata guardinga, attenta e non ha commesso sbavature. Altro valore aggiunto, gli innesti operati da Pagliari. Giampaolo è stato determinante ed anche gli altri hanno contribuito ad una vittoria dal peso specifico enorme. L'analisi del tecnico ospite Mauro Mazza. Mister è stata forse converrà con me una bella partita di calcio, con tante occasioni da una parte e dall'altra, rimpianti da parte vostra? Ma sì, penso che sia stata una partita giocata discretamente da entrambe le squadre. Credo che noi abbiamo sbagliato un po' troppo tecnicamente e gli episodi alla fine ci hanno condannato. Voi siete una formazione inedita del tutto per questo girone. Che impressione ha avuto? Voi eravate nel girone dove l'avete lottata a lungo con i Montevarchi, se non sbaglio, l'anno scorso. Ma penso che ogni annata sia diversa. Mi sembra un girone molto competitivo dove tante squadre ambiscono ai primi posti. Quindi chiaramente va giocata partita dopo partita. La differenza oggi l'ha fatta forse Sbaffo con i suoi assist? Sì, diciamo che in quelle due situazioni ha fatto due belle giocate. Noi perlomeno su una credo potremmo fare sicuramente meglio. Voi per un campionato di vanguardia o puntate al massimo? No, noi puntiamo a fare bene come al solito. Poi, ripeto, saranno tante situazioni. Il campionato è lungo a definire quello che vorremmo fare. Cronaca ricchissima all'ottavo sul traversone di Crescenzo. Perfetto stacco di testa di Monni con il pallone che sfiora l'incrocio dei pali. Poco dopo risponde la Recanatese con un tiro di Gomez dai 20 metri deviato dal baby portiere ospite Semprini, appena 17 anni. Al sedicesimo volatone di Senigalliesi sulla fascia diagonale che colpisce il palo interno e Minella incredibilmente da 0 metri viene colto in controtempo e non riesce nel tappin vincente. Diciottesimo angolo di Capitan Massimo direttamente su Proia tira il volo con Urbietis che si supera deviando in corner. Ventisettesimo azione prolungata della Recanatese. Prova a finalizzare il solito scatenato Senigalliesi ma il portiere respinge Assis di Minicucci per Minella che spreca calciando alle stelle da ottima posizione. La Recanatese insiste ed è quasi un assedio. 36esimo sbaffo appoggia per Senigalliesi. Ottimo il diagonale splendida la risposta di Semprini che mostra grande reattività. Ripresa ed il ritmo non cala anzi dopo una discesa di Giampaolo al sesto sbaffo intercetta un disimpegno errato dei Capitolini ma spara le stelle. Poco dopo Tarantino già ammonito viene graziato per questo intervento e chiaramente falloso su Minella. Al nono la gara finalmente si sblocca. Gran palla di sbaffo per Minella che da pochi passi non può sbagliare di testa. La gioia per i giallorossi dura lo spazio di appena 4 minuti. Ferrante è troppo morbido su questo pallone vagante. Il Trastevere che a qualità ed esperienza ne approfitta con Crescenzo che infila Urbietis dal limite dell'area. La rumba leopardiana riprende con lo stesso vigore ventitresimo discesa di Senigallesi cross calibratissimo testa di Giampaolo e Minella che colpisce in pieno il palo nei pressi della linea di porta. Al ventottesimo arriva il gol partita. È irresistibile sbaffo che si fa largo sulla destra assist al bacio per Giampaolo che realizza davvero senza difficoltà. L'area canatese ha pure la palla del 3 a 1 al trentaduesimo ennesimo assist di sbaffo per Senigallesi diagonale da ottima posizione che termina fuori. Giudiziosamente i giallorossi rinserrano le file ed il Trastevere sbatte sulle linee avversarie. Termina così 2 a 1 verdetto ineccepibile che consente a sbaffo e soci di godersi una domenica ad altissima classifica conoscendo il mister però già dalle prossime ore tutti con i piedi per terra. Sentiamo Giovanni Pagliari. Partiamo da due cose che forse non sono andate il gol subito e le troppe occasioni sciupate. Mi sembrava strano che partivamo dalle cose positive. Abbiamo preso un gol evitabile però non bisogna essere anche troppo esigenti quella è la cosa che noi valuteremo però la difesa e la squadra hanno fatto una buona gara contro una squadra forte che non ti dà possibilità di avere punti di riferimento perché giocano questa palla lunga su Monni e sulle seconde palle è una squadra temibilissima è una squadra che secondo me lotterà fino alla fine per rimanere su. Un grande volume di gioco però hai sviluppato una dozzina di palle e gol nitidissimi Sì, sì la squadra ha giocato bene i ragazzi si stanno impegnando la cosa che mi fa piacere è che chi entra è sempre determinante però mi sembra mancano qualche... 28 Allora oggi godiamoci la vittoria ma sabato già abbiamo una partita difficilissima non vedo partite facili ci dobbiamo sentire in un gruppo forte ma non bravo perché nel momento stesso che ci sentiamo bravi c'è qualcosa che non va però speriamo che il mister vecchietto riesce a motivarli perché però è un gruppo al di là di tante cose è un gruppo di persone serie ragazzi che ci tengono e a me questa è la cosa che mi riempie più d'orgoglio Minella si è sbloccato Gian Paolo pure sbaffa il valore aggiunto beh il capitano il capitano quando si accende lui su questa categoria è un bel vedere per chi ama il calcio è un bel vedere al di là poi ha fatto due assist per me meravigliosi però ripeto a volte evidenziamo soprattutto gli attaccanti però i difensori tutti hanno fatto bene i ragazzini esterni insomma e coacquarelli strepitosi insomma la squadra ha giocato bene e ripeto uno spirito che piace a me che piace al mio direttore e alla società perciò questo è quello che uno ha poi se uno vuole sognare non è il caso nostro noi quando arriviamo a quel punto i punti per la salvezza siamo contentissimi poi speriamo che ci arriviamo tanto prima